Scanner continua a scannerizzare fino a quando io introduco documenti. In automatico lui rileva la presenza del documento, fa la scansione e continua. Quindi in maniera molto efficace e veloce io posso gestire anche le problematiche di una doppia faccia. Può gestire documenti dal formato piccolo al formato grande fino alla 3 tramite un carrier sheet. Tutti i scanner Fujitsu A4 sono in grado di gestire anche la 3 con un carrier sheet, cioè una cartella di trasporto speciale Fujitsu. Si mette il documento piegato a metà, lo scanner acquisisce il fronte-retto, il fronte-retto oppure fa due passate come in questo caso e ricompatta l'immagine e ottengo un'immagine intera. Quindi evito per quelle estensioni in attanto e in fuori formato di dover acquistare uno scanner a 3 documentali che ha un costo molto elevato. Una volta che ho finito la scansione, lo chiudo premendo il bottone. Posso farlo da computer o da scanner. Automatticamente l'applicato è l'applicato sul mio iPad. Qui puoi vedere il mio documento, la prima pagina che ho scannato, la parte parte della prima pagina, il mio piccolo documento che ho scannato e ho scannato anche un piccolo collegamento di internet che ho scannato qui. Tra le condizioni che ci sono sono le condizioni.